Altra prova di maturità per Roseto che nell'anticipo di domani sera affronterà in trasferta Ravenna. Gli appassionati potranno seguire in diretta TV la partita sul Rete 8 Sport, canale 11 del Digitale Terrestre, a partire dalla 20.30. Si tratta di un appuntamento molto importante per la squadra di coach d'Arcangeli, in piena lotta per ritagliarsi il posto migliore nella griglia playoff. Ravenna occupa la decima piazza con 4 punti in meno. Per Roseto vincere vorrebbe dire andare 2-0 negli scontri diretti e più 6 in classifica con 5 giornate da giocare, come dire playoff virtualmente centrati. Nelle ultime settimane gli Sharks hanno dimostrato di essere in grande forma, 7 successi nelle ultime 9 partite e con Sherrod in stato di grazia anche perché ben assistito dei compagni. Gli altri tutti a disposizione, compreso Capitano Pieric che lamenta ancora un piccolo dolore al polpaccio ma dovrebbe essere della partita. Ravenna non attraversa un buon periodo, una vittoria nelle ultime 5, tanto che per la prima volta si ritrova fuori dalla zona che conta. Proprio per questo però il quintetto romagnolo vuole rilanciarsi, per cui Roseto dovrà giocare una gara di intensità e di sostanza in difesa, come ha fatto contro Imola. Nel Ravenna c'è un ex importante, Adam Smith, il cannoniere della squadra con oltre 23 punti di media. Da qualche partita inoltre è stato ingaggiato l'esperto Play Marino che aggiunge esperienza. Palla 2 alle 20.30 con diretta su Rete8 Sport, canale 11 del Digitale Terrestre.